membro della celebre crew serial stepper grande interprete del floor world docente dell'emc fox school 2017 agilità tecnica e fluidità nei movimenti energia musicalità e grande presenza scenica unicità dire e personalità le caratteristiche che lo hanno reso un punto di riferimento dell'out dance per la prima volta ospite del dance theater malcolm a A presto. 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 A presto.